Sempre meno giovani vanno a donare il sangue, il comune di Capanno riprova allora a stuzzicarli con un bonus viaggio per una capitale europea. Non accato, l'iniziativa varata dall'amministrazione Menesini si chiama Dallo e Vola ed è rivolta a ragazzi e ragazze residenti nel comune fra 18 e 29 anni compresi. Chi fra loro diventerà donatore nel periodo che va dal 1 marzo al 31 maggio avrà l'opportunità di volare in Europa o di usufruire di sconti per l'accesso alla piscina comunale. È un'iniziativa che ci permette appunto di arrivare ai giovanissimi visto il trend per così dire negativo delle appunto dei donatori, del numero dei donatori nella nostra provincia, nel nostro territorio del comune Capanno che è sempre più in calo e ci sembrava importante anche cercare di promuovere il valore del donare proprio come appunto azione, atto, gesto che risponde a un principio di solidarietà ma che è anche un sintomo di un appunto di un vivere sano e che rientra appunto in un concetto ad ampio raggio dei concetti di salute. L'iniziativa nasce in collaborazione con l'associazione donatori di sangue Valesi Neri, gruppi e associazioni donatori del comune di Capannori, l'azienda sanitaria di Lucca e la Capannori Servizi. Chi diventerà donatore nel periodo marzo-maggio potrà usufruire di sconti in percentuale sugli abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali alla piscina comunale di Capannori ma soprattutto tra tutti coloro che aderiranno al progetto saranno estratti dieci fortunati che vinceranno un bonus viaggio per volare in una capitale europea. Insomma si cerca con progetti di questo tipo di invertire un trend che nell'ultimo anno non è stato positivo. Nel 2014 a fronte di un incremento costante del bisogno di trasfusioni si è infatti registrata a Lucca come nel resto dell'area vasta nord-ovest e quasi ovunque a livello regionale una significativa flessione nel numero delle donazioni che sul territorio dell'azienda sanitaria 2 di Lucca sono state poco più di 15.000 quasi il 10% in meno rispetto al 2013.